Vendere e comprare casa è un percorso da affrontare in sicurezza e avere un professionista bravo accanto, che ci accompagna, è indispensabile. Ciao Emanuela. Ciao Sonia. Perché hai scelto di diventare agenti immobiliari? Qualche anno fa mi sono trasferita da Milano a Treviso e cercavo casa. Ho incontrato agenti immobiliari, non mi sono sentita seguita come mi immaginavo. Credo che una professione con lo studio e con l'impegno si possa svolgere in maniera eccellente. Per questo motivo ho deciso di fare l'agente immobiliare e per come lo faccio io il lavoro bellissimo. Aggiornamento e formazione sono quindi temi importanti per te? Temi importantissimi. Io leggo molto, partecipo a corsi di aggiornamento e conferenze. Credo che sia il modo migliore per seguire i clienti. Lavorare in un network come quello di impresa cosa significa per te? Significa molto avere un grande portafoglio clienti, una grande responsabilità, accompagnati però da una rete di professionisti sempre presenti. Se dovessi descrivere il tuo lavoro in una parola, quale sarebbe e perché? Entusiasmante. Mi piace vedere il cliente quando trova la casa dei suoi sogni e ascolto molto i miei clienti, le loro esigenze. Forse questo è il segreto del mio lavoro. Sembra banale ma non lo è affatto.